L'Amazzonia, cuore verde delle pianeta, al centro della raccolta fondi speciale lanciata da Coop tra i fornitori di prodotti a marchio Vivi Verde. Loro hanno risposto all'appello e Coop ha raddoppiato la cifra che presto sarà consegnata alle comunità che abitano nella foresta e la preservano da disboscamento e incendi sempre più devastanti. In questo momento è sotto gli occhi di tutti l'emergenza degli incendi che distruggono dei milioni di ettari di foresta incontaminata. I nostri produttori ci parlano di circa 2 milioni di ettari distrutti negli ultimi tre mesi di incendi. Qui 11 comunità avevano distribuite 90.000 ettari di terreno all'interno di un'area grande 6 milioni di ettari. I numeri sono piccoli, si parla di circa mille persone che dalla foresta ricavano la loro unica fonte di sostentamento. È la noce brasiliana, presente sugli scaffali Coop come prodotto solidal, bio e certificato fair trade. Fanno un'attività di raccolta spontanea della noce che matura sugli alberi e cade dopo le piogge e loro semplicemente passano a raccoglierla quando è matura. La rompono dai cocchi e la portano su delle gerle ai loro magazzini. Lavorano nel periodo delle piogge, la piove anche, cadono anche 1800 mm all'anno, quindi immaginiamoci una raccolta dentro la foresta con l'oro, con le gerle che trasportano questa noce. Dopodiché deve affrontare il viaggio per la fabbrica, si tratta di 400 km di piste che sono impraticabili nella stagione delle piogge, quindi lo fanno dopo marzo. Dopodiché viene lavorata, dopo più di un mese di navigazione arriva a noi che la frazioniamo e la distribuiamo a Coop Italiano. Un'impresa controvento di produttori locali uniti in due associazioni, un progetto che anziché distruggere, sostiene l'ambiente. Le due associazioni di raccoglitori, di cui una indigena Airmuiche del Beni e una di origine contadina, Sefembo del Pando, conservano la foresta perché raccolgono solo prodotto maturato e caduto al suolo naturalmente. Loro hanno tutto l'interesse a che la foresta rimanga intatta. È così che nasce un pacchetto di noci brasiliane, spicchi dal gusto ruvido e durissimo, vere bombe di benessere, ad alto contenuto di vitamina, minerali e proteine portate sugli scaffali Coop dalla cooperativa Cico Mendes. Con la supervisione di Firetrade sarà la cooperativa a gestire l'uso dei fondi raccolti con la campagna di Coop e a verificare i risultati degli interventi. Il progetto Coop nasce dalla collaborazione diretta tra Coop e Fairtrade Italia e Fairtrade Italia ha identificato noi come diretti interessati a collaborare con i produttori di noce dell'Amazzonia per migliorare quello che già fanno e per aiutarli a conservare meglio e a implementare azioni di conservazione nel territorio in cui lavorano.